Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video cominciamo la settimana con la cucina in disordine che è tristissima ed è brutto però ieri sera ero stanca e quindi l'ho lasciata lì la roba e poi la mattina dopo l'ho sistemata pensavo appunto di fare, dovevo anche andare a fare la spesa però poi sono dovuta andare a prendere Giada perché non stava bene e quindi diciamo che i piani sono un po' cambiati comunque io vi lascio al video e ci sentiamo in fondo buona visione buona visione buona visione questa l'ho attaccata ieri poi non ha finito stamattina l'ho dovuta mettere in pausa no ieri sera l'ho dovuta mettere in pausa e quindi adesso la facciamo finire intanto vado a preparare la lavatrice la facciamo finire in pausa 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 la facciamo fine la facciamo finire in pausa la facciamo finire in pausa Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.